Presentiamo la nuova edizione di Design Competition. Ricordo ai giovani design e alle imprese, e tutto dei designer esperti, che siano esperti sia della fase progettuale, ma anche del rapporto con l'impresa e con la produzione. Perché questo è il design, non è semplicemente la produzione di progetti, non è l'elaborazione di idee, ma è l'adeguamento di queste idee e di questi progetti all'attività fondamentale che è quella della produzione. E vorremmo, magari più che nell'ultima edizione, che questo esito produttivo venisse perseguito e raggiunto, perché questo è il compito del design, cioè introdurre nella produzione industriale, di piccolo, di grande serie, qualità e pendenza. Per quale motivo un visitatore internazionale dovrebbe venire a OMI piuttosto o in aggiunta che andare alle altre manifestazioni internazionali che ci sono specialmente in Europa. E devo dire che la domanda che sembrava una domanda così un po' estemporanea, in realtà è una domanda molto acuta. E la risposta che io dite a questa collega è stata perché nelle nostre intenzioni, sempre più, edizione dopo edizione, abbiamo intenzione di far vedere quelle creazioni, quelle opere di innovazione, di design, di produzione di oggetti che poi riescono alle nostre case e che oggi non sono presenti in altre fiere. Quindi, nel mondo degli oggetti per la casa, sempre più ormai il prodotto, più che un prodotto, è una configurazione di un'idea, di una creazione. Questo era un po' il parallelo che mi era venuto vedendo quando è arrivato il Tim Cook a Milano, dove ormai i prodotti dell'elettronica, è vero, sono dei prodotti, però se pensiamo ai prodotti di un certo tipo, spesso vediamo questi prodotti come in realtà delle opere di creazione. Talmente forte è l'elemento creativo che è in questo prodotto. Quindi, la linea strategica di sviluppo che vogliamo dare a questa manifestazione e per questo credo che l'iniziativa di Regione Orbadia sia particolarmente importante, così come quelle che facciamo con altre iniziative, come per esempio con le associazioni di artigianato, è proprio perché noi vogliamo dare la possibilità a tutti questi garage, chiamiamoli, sempre per fare un parallelo con il mondo dell'informatica, italiani, dove si sviluppano dei prodotti innovativi, dove si sviluppano delle tendenze, delle linee che poi vengono a riempire la nostra vita quotidiana e in un certo senso alcuni settori di macet, di omi, scusate, io vengo da lente fiera, ho fatto una trentina di edizioni di macet, quindi ogni tanto mi riesce ancora. Quello che noi vorremmo diventasse omi, sempre più in alcuni settori, quindi è un po' la fiera dei garage italiani. Questa edizione presenta una rivisitazione degli oggetti storico-artistici italiani reinterpretati nell'ottica del design. Questo è un elemento molto importante per omi, di creazione di nuovi canali di distribuzione, le nuove normative legate all'agevolazione, del cambiamento tra beni culturali, turismo, arte e sviluppo economico, fa sì che ci sia veramente un'opportunità importante per le aziende di presentare il proprio prodotto all'interno di nuovi canali. Il sistema museale di cui l'Italia è ricchissima oggi è latita da questo punto di vista e molte aziende stanno vedendo questo canale come una nuovissima opportunità. Quindi noi diamo seguito con una mostra molto bella che lavora a rappresentare una nuova strada per le collezioni di oggetti reinterpretati nell'ottica del design. Quindi avremo 30 aziende che presentano oggetti storici della loro produzione reinterpretati da architetti e designer di fama con l'obiettivo di stimolare quello che è un nuovo canale, che è il mondo museale di cui oggi l'Italia è ricchissima. Continuiamo con un settore storico di quello che è OMI che è rappresentato dal mondo fashion and jewel quindi il mondo dell'uomo e della casa. Fashion and jewel che rappresenta per noi qualcosa come 500 aziende espositrici quindi un mondo molto importante e OMI presenterà una mostra una continuità di una mostra una mostra molto bella una mostra storica legata alla bigiotteria che detta così la bigiotteria viene quasi intesa rispetto al gioiello in maniera quasi secondaria in realtà fa parte della storia dell'arte produttiva italiana che rappresenta un elemento importantissimo per le vendite dei nostri negozi di gioielleria e bigiotteria e presenteremo la mostra che è curata da Lino Raggio che ringrazio di essere presente anche in sala e da Alba Capellieri con cui stiamo collaborando da due edizioni presenta 200 oggetti storici degli anni 70 sino all'anno 2000 che di marchi importantissimi da Armani a Ferré a Sciarra Pagano a veramente marchi che rappresentano la storia della bigiotteria italiana e questa mostra vuole essere una continuità per far vedere come in Italia siamo capaci a fare design a fare trattamento del materiale e a fare delle cose straordinarie per le quali il lavoro che OMI sta facendo è attrarre il compratore ovviamente nazionale ma soprattutto il compratore internazionale e questo è un lavoro che noi come OMI stiamo facendo a strettissimo collaborazione con ICE che collabora con noi per agevolare l'internazionalizzazione delle aziende e soprattutto portare il mondo internazionale a Milano e questo è una priorità una delle tante priorità di OMI sul quale stiamo veramente facendo degli sforzi importanti come azienda e in rapporto alle associazioni e alle istituzioni perché riteniamo che Milano Fiera Milano, OMI in questo caso possa essere e in alcuni casi tornare ad essere un'app internazionale del mondo della casa e del complemento del reto altra novità legata ad OMI sono i settori nuovi i settori che sono a complemento di quei quattro settori storici che erano i settori di Macef quindi la tavola e la cucina il gift, la home decoration e il fashion in jewel settori con i quali stiamo collaborando con le aziende italiane che vedono in OMI un momento di incontro un momento di business quindi il mondo del KIDS quindi abbiamo lavorato con una trentina di aziende per presentare il prodotto KIDS non solo fine a se stesso ma veramente ambientato in un'offerta che mette insieme diversi prodotti quindi avremo OMI KIDS OMI Wellness Hobby Outdoor il mondo della festività quindi tutta una serie di settori e sottosettori che rappresentano quello che oggi noi troviamo nelle nostre case e che rappresentano quello che sono come noi definiamo lo stile di ogni persona e quindi la fiera degli stili di vita proprio per questo che è un'ottima che è un'ottima